Prima di tutto conoscitivo ringraziamo il sindaco della disponibilità e poi come ho già detto scusate il fiatone ma abbiamo fatto un po' di scale e vorremmo portare all'attenzione quello che è il primo ragionamento legato al vecchio stadio però è un incontro sul quale cercheremo di capire se ci sono i presupposti attraverso quale procedura. Il progetto è realizzare uno spazio per la squadra che possa essere la casa del Teramo Calcio, null'altro di più. Non ci sono attività o sfruttamenti commerciali rispetto a questa ipotesi di lavoro. Perché proprio il Teramo Calcio? Il Teramo Calcio perché è qualcosa anche di personale, le mie esperienze personali calcistiche non mi hanno mai visto in questa situazione. Ho sempre fatto calcio non per una città ma magari anche se ho fatto la C a Roma ma chiaramente con presenza di squadre di Serie A e quindi ero spinto nel cercare di rappresentare un popolo, una tifoseria e sinceramente ne aspettavo da Teramo questo ma non a questi livelli quindi insomma sono ancora più convinto di aver fatto la scelta giusta. Al Teramo è mancato sempre uno spazio per il settore giovanile, il vecchio stadio può essere in tal senso un'opzione? Beh questo sì, l'idea nasce proprio da questo, cioè poter dare non tanto alla prima squadra che oggi una casa ce l'ha già ma a tutti gli altri uno spazio dignitoso per poter esprimere valori tecnici, valori umani e anche direi valori di appartenenza che magari in questo momento con la dislocazione un po' mancano. Noi sul vecchio stadio all'interno di un'area più ampia come sapete abbiamo una linea chiara, una visione chiara di un percorso organico di riqualificazione del vecchio stadio all'interno di una riqualificazione complessiva dell'area. Abbiamo un progetto, abbiamo una parte delle somme ma ovviamente come sapete anche in un'ottica di partecipazione e di confronto con la città siamo in una fase di apertura del dialogo, non farei fuga in avanti su ulteriori percorsi, insomma sentiamo la nuova proprietà, sentiamo la città perché è una cosa che non possiamo assolutamente permetterci, in realtà ho già avviato le interlocuzioni con la comunità terramana dobbiamo assolutamente rapportarci per la scelta della riqualificazione di quell'area con tutta la comunità perché è un'area particolarmente sensibile e sapete quanto me, se non meglio di me, cosa è successo in passato sull'intervento, in merito all'intervento su quell'area. Ciò a dimostrare che si tratta veramente di una zona fondamentale ecco perché dobbiamo affrontare il tema con responsabilità, serietà ma senza perdere troppo tempo perché dobbiamo assolutamente arrivare al momento della decisione, intanto perché non è degno lo stato di quell'area e poi perché le risorse a disposizione ci sono ora, le opportunità possono esserci ora e quindi dobbiamo saperele cogliere.